E salve a tutti ragazzi e bentornati su Resident Evil 3 Prima di iniziare vi ricordo di attivare la campanellina per non perdere nessun altro video E di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Siamo... vabbè come ben sapete qua è come la demo se lo avete giocato Siamo nella stazione e adesso dovremmo cercare di far partire questo benedetto treno Quindi se no prenderemo delle munizioni, se ci sono Ok, ripriso nella corrente alla sottostazione Allora intanto noi ci prendiamo dell'erbaccia che ci serve per curarci Grazie Polvere da sparo Ci serve la polvere da sparo, perfetto Poi cosa abbiamo? Qua non c'è niente Cos'è? Forse al ritorno magari troveremo il lucchetto per sbloccare la valigia Altri sopravvissuti, dobbiamo far ripartire il treno Sì, fermati zombo Come fare con zomani i colpi inutilmente? Cade giù, bravo, stai giù E se non approfitto per pugnalarlo perché sono ancora vivi questi qua Ok Non dovrebbe più alzarsi Non dovrebbe, vuoi? Non lo so Ok, ma non possiamo entrarci Oh, colpi Altri proiettili, va bene Lo sta sbranando Oh, mamma mia Fermo lì Ok Li pugnalavo Oh, cade giù Stai giù Non ti muovi Ok Spero che questi qua, una volta pugnalati, non si rialzano più Perché sennò è inutile che sto lì Pugnalare Mamma mia Ormai da perruzione Che è stato Carlos, sono nella strada principale Che faccio? Vedi dei grossi tralicci È la sottostazione Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse Tipo come te, abituato alle situazioni scontate, no? Foggi Ok, qui non potremo mai, puoi mai passare Perché ci serve La pompa è per l'acqua Quindi andiamo a cercare subito Tutti adesso devono sbucare questi qua, mamma mia Oh, sei calmo Ma com'era veloce sto zombo Che non dovrebbe più muoversi Ok, qua proverò A bloccarle Oh, via, 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 via Fate proiettola, musichina accesa Vediamo se troviamo qualcos'altro qui Eh, infatti qua c'è un altro trucchetto Ah, ma qua ci vuole proprio una chiave Un'altra erba Un'altra erba Cos'è questo? Un portaggio Cosa me ne faccio? Servirà qualcosa? Sì, ma adesso Io sono entrato da lì Ok, allora Allora, dobbiamo andare qui Guardiamo la mappa Dobbiamo andare qui Oh, mamma mia No No, adesso tutti quanti qua Mi stavo ingastrando, no? Eh, sì, ti pareva Managgia Cresciamo di schivarli questi zombo qua No, entriamo prima di qua Che qua non dovremmo trovare nessuno Questo qua non è che mi fido tanto Oh, buonasera Oh, c'è il gigino qua ragazzi Manattera per favore Non ti muore Sperto bene Così in pace Eccolo qui La pompa Per l'acqua Quello che ci serviva Chissà cosa ci conteneva Oh, granata Buono Adesso non ho più lo spazio Quello è bello Combina Eh, adesso sì Ah, qua abbiamo un bel fucile Allora, vediamo un po', eh Ci vorrebbe Che dove faccio adesso Questi devono essere gli uffici della media Garantire la sicurezza delle tratte Ah, ma questo dobbiamo Ah sì, ragazzi Durante l'avventura Ci sono queste bumble Che non ho capito perché bisogna distruggere Non so se Una volta distrutte tutto Cosa succede Cosa abbiamo qui? Oh, stai lì Non so se andiamo sulle scale Oppure andiamo avanti Andiamo avanti Vediamo se troviamo qualcosa qui Oh Oh, stai lì Ehm, no Ok Altri proiettri Ah, io sono venuto da Allora, quelli stanno mangiando Al quell'altro Facciamo così Ecco qua E poi cosa è da fare? Niente Oh, via, via, via Vieni, andiamo su per le scale Vediamo cosa troviamo Altri corpi Ok Mortacci tua E già mi ha fatto sperimentare Questo qua Peggio Ok Sono rumore Ah, eccolo Ho messo a due Una cosa che abbiamo qui Il diario Aspetta E come faccio a scoprirla adesso? Ok, spero di non spaventarmi qua Non ti muovere Stai lì Non so che ti volevi muovere Non sapevo io Ma sei sempre tu GG Stai lì Ok Ok Duccia Ok Ok ragazzi Usiamo subito la pompa qua E E ne affiamo Via Spegniamo le fiamme Bene 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 Ok Oh, eccola la chiave La tronchese Boh Ce l'abbiamo Bravo Ragazzi Mamma mia Non ha fatto nemmeno respirare Era infetto Ma non potevi saperlo Che rammolliti gli stasi Ecco perché siete quasi tutti morti E tu chi cazzo sei UBCS Vi ammazzate tra voi Se sarebbe trasformato Ha intenzione di morire giovane per caso Torna subito alla stazione della metro Non abbiamo bisogno di una croce rossina da queste parti Testa calda Altre cartucce per il fucile Sì ma io adesso dovrei Adesso dovrei ritornare indietro per prendere il fucile Ne vale la pena? Andiamo avanti va Ah, qua mi ricordo questo disegnino C'era anche Nel resident evil 1 Si vedeva a malapena ma si vedeva Ok Altri proiettili Ma non si può scavolcare Ok Dovremmo passare per forza da qui Mamma mia Brutti quei cagnacci Via 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 Dove diamo ne devo andare? No 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 sono troppo veloci No sono troppo veloci Chiudi Oh Meno male qua non possono entrare Mamma mia Non posso nemmeno respirare Ragazzi che C'è già qualche altro zombie davanti a noi Ok State per favore un po' a terra Ma c'è un altro lì Stai fermo Stai fermo Ah lo sapevo Stai ferma Ma no Ma è impossibile Oh questi zombie qua ragazzi Non muoiono per niente Cosa c'è ancora? Ok Per terra Andiamo se si muovono più No Non si dovrebbero più muovere Ok Qua invece Borsello Ah Ecco 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 Cosa ci serve Bene 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 Più spazio Esamina Oh c'è la Gemma rossa Un'imbituzione di un rubino Sempre realizzata per essere incastonato Dentro a qualcosa Ah ragazzi Questo pezzo qua Sicuramente andava all'inizio del gioco Che poi ci ritornerò Sicuro Quindi depositiamo per adesso C'è una puzza di Non voglio neanche pensarci Eh mamma mia Ma qua tutto marcio Sarà vivo? Oh c'è un'altra Che schifo Ok Cosa abbiamo qui dentro? Oh mio dio Il ploso è pieno di verme Questo Allora Se amminiamo anche qui Cos'è? Ah Grimaldello Uno strumento utilizzato per aprire le serrature Più semplici Quando non c'è nessuna chiave Ah Ecco Dove posso Sbloccare adesso Il catenaccio Si perché se no si trova tutte le chiave Mi era impossibile Che cose Che schifo Che schifo Che schifo Tra un po' Ci trasferiamo Poi noi Non possiamo fare niente Pensavo Ancora Ma no Vai Sì ma non mi devo curare qua Parassiti dentro il mio corpo Dobbiamo utilizzare questo Ah Ecco Dovevamo solamente utilizzare l'erba C'è la pianta Mamma mia Meno male Oltre i zombie Ragazzi ci sono altri tipi di mostri A posto Guardate un po' questo Mamma mia E devo stare attento Per non farmi attaccare Ma in qua tutti i mostri Stanno adattavo molto male Ma lo è Oh Ma dove si trova Sopra Ma no Che squito Ancora Tanti Ok Secondo interattore avviato Ancora oh Ma quanti ce ne sono Via 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 No 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 Ancora Sti maledetti qua Mi hanno buttato ancora È impossibile proprio Olè Ma adesso basta Ancora Ok siamo al 3 Ecco qua L'ultimo interattore Mamma mia Via 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 Abbiamo ripristinato la corrente Quindi possiamo andarcene L'uscita Ok giusto Oh Veloce Ok non possono passare per di qua Meno male Ok Rimane solo l'interruttore principale Ok attiviamo questo interruttore principale Che schifo Mamma mia Avevano fatto proprio la tanna Lì sopra Adesso non mi ricordo Se era qua È percorso Sì Mamma mia Mamma mia Ti sei qui Mi sono girato un attimo indietro Già c'è Nemesis Oh mamma mia Via Carlos Quel mostro è ancora vivo Mi stai seguendo Cosa Presto Torna alla stazione No Prima devo ripristinare il sistema Mamma mia Che coraggio Quindi era qua la strada giusta Sì Era qua Ah Il spray medico Questo è buonissimo Grazie il video può finire qui Grazie per la visione E noi ci vediamo al prossimo video Mi raccomando Attivate la campanellina Per non perdere nessun altro video Alla prossima Ciao